Nove persone, ritenute appartenenti ad una cosca di Paternò, sono state arrestate dai carabinieri per associazione di tipo mafioso, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, tentato omicidio e distorsione con l'aggravante del metodo mafioso. Le indagini hanno consentito di definire la posizione di comando del clan assinnata della criminalità organizzata del Paese, evidenziato anche dal segno di irreverenza dell'inchino durante i festeggiamenti della patrona Santa Barbara del dicembre 2015. Gli investigatori in prosecuzione dello sforzo investigativo che portò sempre in quel territorio nel febbraio del 2016 alla cattura nell'ambito dell'operazione The End di altri 14 personaggi dello stesso gruppo criminale per i delitti di associazione di tipo mafioso, estorsione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato gli assetti del sodalizio Capi e Gregari riscontrando un diffuso condizionamento illecito dell'economia locale. Le attività hanno consentito di evidenziare il ruolo del responsabile del gruppo il quale al posto del padre ristretto in carcere curava i rapporti con altri esponenti di spicco della mafia.